Buongiorno e buon sabato Svincolo chiuso per lavori anche a Cecina Nord in entrambe le direzioni A Firenze per i cantieri della tramvia fino al 17 maggio lavori di asfaltatura in piazza Dalmazia Infine per gli aerei il volo Welling da Parigi atteso a Firenze alle 10.50 è stato cancellato Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie a tutti!